si è blu che ha detto eschimesi ma intendeva dire cinesi giapponesi eschicimesi ma non sono islamici quei è rimasta la sigaretta mio dio buongiorno a tutti buongiorno a tutti ragazzi questo sta scorreggiando il pilota il pilota è morto c'è morto il pilota ha scorreggiato purtroppo è morto nella stessa puzza vado per prendere un altro taglio di pezzi vai 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 mi piace apri la porta ah no vai toliti eh gli ho tagliato la gola ahahah per risicurarti che la bolla o flex simulator ma green è un esperto si carica l'ultima volta è precipitato solo quattro volte in tutti i simulatori e sistemi no ok adesso su 160 prove 2 gli ha vinto abbiamo vinto adesso possiamo fare l'intro buongiorno a tutti ragazzi questo è Pam of the Games e noi siamo io sono io sono l'aquila vera green eagle io sono joystick blu si 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 blu beh abbiamo capito blu joist giocchi i bai se stanzito siamo su splinter xl sei su splinter xl perchè adesso io me ne vado a prendere un paio di cucchiai perchè non sento luta solo questo che ci fai in cina ma no ti goglioni che volo davvero da schifo Vado a prendere delle cuffie Ciao ragazzi Ok Sì Ehi Ma voglio Che cazzo è Che cazzo fate Ma che è stupido Oh Perché mi stanno sparando Ehi non ho fatto niente Ok Ma che cazzo Oh Ma perché Bello ha detto Finché stai in quest'aria Nessuno ti sparerà Entro bene Ok È una tendina Vai Alla ti protegga Ma che cazzo sono Islamici Ho il notizio Bravissimo Trovalo Sgamalo Bravissimo Tizio Sala riunioni sicura Ah cazzo Che succede? Ha visto il buco nella rete? No Fanno il rapporto dei cecchi No Anno contro Non posso Mazzare nessuno Se non risponde alla radio E' sincazza Non puoi rispondere No Eh no Non è come Lì E' te dei Però posso Già che Guardia la luce Treda Mi è acesa ma lei è già tratta minchia togliti per favore non si usa le palle minchia ti ha quasi sgamato mi è andata bene stavolta adesso muoviamo la gru ma che serve non l'ho fatto e chi allora non lo so ecco perchè sono qua su ma che vuoi se stai dicendo oddio avrei fatto un po' di caso ok no qua stanno litigando perchè uno dice che ha toccato la gru l'altro no non ho toccato la gru però non sanno che sono stato io in realtà belli fuochi d'edificio wow siamo tornati al punto di prima siamo tornati al punto di prima dopo badge adesso aspetta qua salva vediamo se cresce di nuovo ok ok non è crashato meno male siamo di nuovo qua sono da bianca live mi lascia parlare no siamo di nuovo qua dopo badge crash trucchi attivati non è la decima volta che lo facciamo volevo dire io è la decima volta che facciamo questa missione in realtà non sarà la prima di mezzo si la seconda la prima di mezzo oh sto facendo la prima di mezzo la prima di mezzo non voglio trattare con te non voglio trattare con te io ho scendo di cento e tu sarai di cento mi sento di cento ma noi come sappiamo che funziona ma solo che la spinta il mauro che è molto bello ma noi come sappiamo che funziona ma solo che la spinta il mauro che è molto bello vado a controllare una cosa si si vai a controllare una cosa perché c'è sotto questa sala altri piani e la lavanderia perché è una lavanderia è perché la vista si è da lì che viene tutto quel vapore ci manderemo in forza in ogni caso ok ma non c'è nessuno nell'elicottero oh oh c'è un tizio che ha maestra bagato non ha nulla nelle mani mi ha tolto l'auricolare adesso diranno occhio fiscia il triti di lì in dieci secondi se non muori no non stiamo dicendo nulla esplosa una finestra no si è esplosato ciao red no non hai visto nessuno non hai visto nessuno no non ci sono gli eschimesi è blu che ha detto eschimesi ma intendeva dire cinesi giapponesi eschi cinesi ma non sono islamici è rimasta la sigaretta è rimasta la sigaretta mio dio abbiamo trovato un titolo per il video sigarette fluttuanti aspetta no voglio fumare mettiti cos'è bene ma no la sto fumando con l'orecchio ah sei arrabbiato ti fuma l'orecchio lo puro il tuo orecchio quasi blu perché pagli dentro l'auricolare vabbè non ce la posso fare andiamo avanti alla prossima allora ciao 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 ciao